Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui oggi finalmente con il mio nuovissimo video in cui vi ripropongo tre sfide. Allora ragazzi, ho visto che tantissimi di voi me lo stavate comunque chiedendo di riprovare a fare un po' di sfide che avevo fatto magari in passato, ora che magari sono un po' cambiato, no fisico, ma insomma ho avuto un piccolo cambiamento rispetto all'anno scorso e quindi ho voluto riproporvi tre sfide. Queste tre sfide saranno quanti addominali riesco a fare in un minuto, quante trazioni e quanti piegamenti. Devo dire che ho puntato molto sulla quantità ma anche sulla qualità dell'esecuzione perché comunque è bene fare gli esercizi bene perché sennò non sono fruttiferi anche perché io come sapete questi esercizi li uso tutti i giorni per allenarmi, quindi è bene farli bene. Comunque ragazzi, io mi dilungo troppo e vi lascio alle tre sfide. Comunque ragazzi, io mi dilungo troppo e vi lascio alle tre sfide. Comunque ragazzi, io mi dilungo troppo e vi lascio alle tre sfide. Comunque ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Come ho già detto prima, ho puntato molto sulla qualità e non sulla quantità dell'esecuzione perché comunque sono esercizi che io ritengo proprio alla base, sono proprio l'ABC. Anche quando voi mi chiedete che esercizi faccio per avere un fisio del genere, ecco, sono questi di fatto. Addominali, trazioni e piegamenti. Comunque, secondo me sono quelli più efficaci e poi a corpo libero io preferisco comunque allenarmi a corpo libero che con i pesi. Anche se comunque sto un pochino iniziando, preferisco sempre allenarmi a corpo libero. In più ragazzi, non mi ricordo bene quante ne feci l'anno scorso, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere anche voi quante ne avete fatti. E comunque se avete visto se ero un pochino più stanca, anche se secondo me, insomma, non lo so, magari se ne ho fatto un pochino di meno si può pensare ero più stanca perché comunque l'ho fatta nell'ambito del mio allenamento che ero anche lì abbastanza provata. Quindi niente ragazzi, spero davvero come ho già detto in questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto con un commento come avete passato il capodanno e vi auguro anche con questo video di passare appunto un bellissimo anno e appunto che questo sarà l'inizio di un anno pieno di sorprese che piano piano vi svelerò di cui sono veramente super entusiasma, spero davvero che riuscirete e riuscirò a raggiungere determinati traguardi. E quindi niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!